Ciao a tutti, oggi prepareremo la crostata pandistelle con crema di ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono per la base, biscotti tipo pandistelle, burro fuso, per la crema, ricotta, zucchero a velo, yogurt alla vaniglia, gocce di cioccolato e biscotti pandistelle per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Facciamo tritare per 10 secondi a velocità a 7. Viuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro fuso ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in uno stampo per crostate rettangolare di 35 x 14 cm. Dopo aver formato la base e rivestito anche tutti i bordi con il biscotto, adesso lo andremo a posizionare in congelatore per 30 minuti. Prepariamo adesso la crema di ricotta. Mettiamo con il boccale la ricotta, lo yogurt e lo zucchero ed amalgamare per un minuto a velocità 3. Aggiungiamo le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 30 secondi, anti-horario, velocità 2. La crema di ricotta è pronta, trasferiamola in una ciotola e posizioniamola in frigo fino a quando la base non sarà pronta. La base è pronta, rimuogliamola dallo stampo e posizioniamola su un vassoio. Abbiamo ripreso la crema dal frigo, adesso la verseremo nella crostata. livelliamo bene. Decoriamo con i biscotti pandistelle. Posizioniamola in frigo per almeno 3 ore. crostata pandistelle con crema di ricotta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!